Il Parco Nazionale del Cilento, a Vallo di Diano e Alburni, ha siglato ieri mattino un importante protocollo di intesa con Enel per realizzare una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nei comuni del parco. Un'iniziativa che tende alla promozione dello sviluppo della mobilità sostenibile e alla creazione di percorsi turistici a zero emissioni nel territorio protetto. L'accordo, siglato a Roma dal presidente Tommaso Pellegrino e da Francesco Venturini, responsabile di Enel, prevede la realizzazione di una rete di ricarica capillare negli oltre 90 comuni del parco. Enel si occuperà dell'installazione, l'attivazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. L'ente Parco, invece, promuoverà l'iniziativa presso i singoli comuni, favorendo la collaborazione tra azienda e le amministrazioni comunali per ottenere le necessarie autorizzazioni all'installazione delle ricariche di corrente. Enel e Parco, dunque, collaboreranno anche per lo sviluppo della rete di trasporto pubblico a zero emissioni attraverso un servizio pilota di navette elettriche. La mobilità elettrica, dice il presidente Pellegrino, rappresenta uno strumento di attrattività turistica in continua crescita e l'intesa è un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di una rete capillare di ricerca che entro pochi anni garantirà a tutti i possessori di veicoli elettrici di muoversi in totale tranquillità su tutto il territorio italiano.